Oggi presentiamo alla città, ai commercianti, alle associazioni di categorie e anche al distretto urbano del commercio questo nuovo progetto molto tecnologico che si inserisce nell'ambito di Smart City. Si tratta di un progetto Wi-Fi, vorremmo connettere tutti gli interessati con una linea Wi-Fi in modo tale che smartphone, iPhone e qualunque altro meccanismo elettronico possa nei locali pubblici connettersi con la grande rete internet. Il Comune ha già 22 Oggi aperte in tutta la città e con l'aiuto degli esercenti e dei commercianti vorremmo ampliare questa rete in modo tale che Bergamo diventi in vista di Expo e in vista anche di Capitale Europeo della Cultura una città cablata, una città integrata, una vera città smartphone. Il progetto è già partito, questo incontro ha lo scopo di presentare agli commercianti, all'associazione di categoria il progetto e chiedere la loro partecipazione in modo tale come in altre città europee, per esempio Amsterdam, per esempio Copenhagen tutti gli esercizi commerciali abbiano il collegamento Wi-Fi free. Una collaborazione con Tiscali? Collaborazione con Tiscali in quanto è stato scelto a suo tempo con un concorso pubblico come nostro partner e quindi facciamo riferimento a questa società. Per chi volesse entrare in questa rete cosa deve contattare? Contatta o il Comune o il Tiscali Store e avrà tutte le indicazioni e le notizie per poter partecipare ed entrare nelle oasi del Comune di Bergamo. Grazie. 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 Grazie.